Poi andiamo al naso. Iniziamo a... Olfattivo. Dottarci il naso. Esattamente. E nell'esame olfattivo andiamo adottare i profumi del vino, gli diamo dei riconoscimenti e cominciamo anche a comprendere se c'è un filo logico con l'esame visivo oppure no. Quindi sono collegati o scollegati. Esattamente. Quindi, prima di tutto andiamo a verificare che ci siano o che non ci siano dei difetti, quindi che il vino sia sano, che non ci siano delle muffe, che non ci siano sentori di tappo e quindi andiamo a verificare che il vino sia sano. E poi verifichiamo l'intensità e la persistenza, giusto Pino? Esatto. La prima cosa che viene in mente appena stappato, appena adesso nel bicchiere, è la forza, diciamo, l'impatto che si ha con i profumi, se è intenso o se è poco intenso. Cioè, intensità, che cos'è? È che se il vino arrivasse forte come un pugno nel naso, quella è ben intenso. La persistenza è quanto resiste il ricordo del vino nel naso, passù, nel tempo, ok? Quindi, se adesso, dopo un po' che il bicchiere lo sia lontano e il vino rimane nel naso, quello è un vino persistente o molto persistente. Sono dei vini criche, come posso affermare, che anche per 8-10 secondi rimangono nella nostra memoria, una volta che li abbiamo annusati. O ancora di più. E quelli sono vini davvero incredibili. Eccezionali. Incredibili. Poi, quali tipo di riconoscimenti andiamo a dare al naso al vino? Beh, potremmo parlare di frutta. E qui abbiamo la frutta matura, la frutta rossa, la frutta esotica. Facciamo degli esempi, potremmo avere le amarene, le amarene sotto spirito. Le albicoche, le bianche, la frutta di cieli esotica, l'ananas, la papaya, quando ci sono dei vini che sono belli ricchi e molto gialli, solitamente. C'è anche tutte le spezie laterali, che vengono dalle tostature del legno, che vengono dalle tipologie dei vitini, perché anche molti vitini, anche se non passano il legno, ti danno quelle sensazioni di speziature, comunque, e di vaniglia anche. Certo, le spezie tue possono essere dal pepe alla vaniglia stessa, alla... cosa potremmo dire ancora di più? I chiodi di garofano, ci sono molto piacere, la cannella... Sono una... Esempi di spezie tue frequenti! Divertitevi, divertitevi, anche se uscire, se volete uscire dalle solite riconoscimenti, divertitevi a chiudere gli occhi e a provare a abbinare quello che sentite nel vino a qualsiasi cosa che vi ricordo, un profumo che vi esattamente... La prima volta, come per tutti, non sarà subito semplice, ma imparando ad ascoltare il vino che avete nel bicchiere, troverete sicuramente... Tante, tante cose nuove! Eh sì! E poi soprattutto allenerete i vostri sensi ad individuare sempre di più le cose presenti nel vino. Tenete presente che con le degustazioni di vino in vino che si fanno ogni mese, c'è proprio un accompagnamento alla degustazione per ogni vino specifico. Esatto! Ritornando invece al naso, un'altra cosa, per esempio, sono i fiori. Quindi anche qui, i fiori bianchi, i fiori gialli, la viola, la rosa, il glicine, i fiori di acacia... Ci sono in natura questi profumi e sicuramente potete ritrovarli anche dentro questi vini meravigliosi, ok? Ok?